ABS, eccoci al termine della prima giornata di questo rally 4 regioni, sono il navigatore di Paolo, corriamo con il Super 1600, sentiamo cosa ha da dirci Paolo in merito a questa giornata. Ciao amici di ABS, come vedete siamo molto rossi in faccia, giornata molto calda, varie volte fermate le prove per incidenti, dunque incolonnamenti, molto caldo, prove sporche, ci stiamo divertendo, la gara sta andando bene, vediamo domani di migliorare, un grosso saluto a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.